Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Cuffie Chiuse Sony MDR1R Cuffie. Cuffie standard con diaframma con pellicola ai polimeri di cristalli liquidi da 40 mm e driver HD da 4 Hz 80 kHz. Sviluppate grazie a un'esclusiva collaborazione con Sony Music Entertainment. Ascolta bassi ricchi e potenti e note alte estese e prolungate. Design chiuso per una risposta dei bassi eccezionale. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.